e sei il test che ti aspettavi coach? buonasera a tutti si su alcune cose si su altre no sicuramente mi aspettavo che i ragazzi erano un po più pronti mentalmente questo si però a livello di intensità e di gioco si era quello che mi aspettavo so che c'è grandissima attesa a barcellona che campionato ti aspetti? si c'è tantissima attesa giustamente dopo il bellissimo campionato dell'anno scorso un po le aspettative sono aumentate io mi aspetto un altro grande campionato al momento stiamo stiamo lavorando siamo in rotaggio ma all'allungo usciremo fuori uno primo è l'avversario del caranzaro caranzaro sicuramente una squadra abbastanza fisica che con l'intensità in difesa ci ha messo in difficoltà progetti per il futuro dove può migliorare questa barcellona a vista questa sera? su tutto su tutto in difesa prima cosa mentalità in attacco tantissimi diciamo che dobbiamo migliorare su tutto un girone bello forse ancora più bello dell'anno scorso c'è anche Matera le campane sono diminuite sicuramente più fisico sicuramente più livellato diciamo io mi aspetto un girone durissimo con tutte le partite alla morte grazie mille prego